signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefm 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno ed eccoci pronti con la top 10 numero 10 per gianni morandi con l'allegria posizione numero 9 per emma con loredana bertè che sogno incredibile numero 8 per jx con jake la furia salsa posizione numero 7 per fabio rovazzi con eros ramazzotti la mia felicità scimmi scimmi con giudy ferreri takashi ketra posizione numero 6 numero 5 per madame con il brano marea posizione numero 4 per i bomb da basso con baby k moikani andiamo sul podio troviamo samuel con francesca michelin cinema numero 2 per marco mengoni con il brano ma stasera ma stasera corri forte ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare ed arriviamo alla posizione numero 1 troviamo fedez con achille lauree orietta berti il brano è mille sono loro i numeri 1 ma poi me ne restano mille poi me ne restano mille mille grazie a tutti grazie a tutti